Per tutto per ringraziare l'amministrazione della sensibilità mostrata per l'argomento e come giustamente diceva il Sindaco, noi è da anni che per fortuna riusciamo ancora a ritagliare uno spazio di tempo per l'educazione anche nelle scuole, cosa che per noi è importantissima perché ovviamente è lì che si forma il cittadino del domani, quindi già avere un primo approccio con i bambini e con i ragazzi che frequentano le scuole per noi è molto importante anche per un ritorno poi non solo di immagine futura ma proprio di formazione sia nostra perché anche noi si va spesso per imparare da ragazzi che per i ragazzi stessi per un domani. Questa occasione è stata presa al balzo dalle mie collaboratrici che sono veramente, non perché sono qui ma veramente in gamba e si occupano tanto tempo di questa cosa, hanno preso molto a cuore questa mission che per loro ci ha portato un sacco di soddisfazioni e lascerei appunto a loro dire di cosa si tratta in particolare di questa manifestazione che come anche pensi da un livello rompere quindi aderirvi ci è sembrato proprio lo so.